Xmlencoding uguale UTF, 8, Hospited E la vita in diretta, Eleonor Agio Rgisi è lasciata andare a una serie I considerazioni davanti al micro Uno di Alberto Matano.Eleattricea Parlato del suo passato, della SWAC Arriera e degli amori.Durante l'IN Tervista è poi stato fatto un riferi Mentò anche al suo ex marito, Massim Oceavarri, con il quale ho un figlio E del rapporto che oggi ha con lui La donna che è diventata la SWACOM Ogni appunto Alberto Matano ha voluto ZAP E recume mai Eleonora Giorgia Biaia Cettato di spogliarsi sul set, FOR Se un gesto di ribellione nei CONFRO Inti dei suoi genitori, effettivamente Intesi, perché l'attrice ha CONFESS Ato, mia madre nel momento FOLLEICO La rottura con mio padre, che aveva Una famiglia parallela, ad un certo Punto ha iniziato un cammino a Cristi A noi in una comunità, appunto, e a me sembra VAC E i miei genitori non si accorgesse Ro più di noi continua dopo la foto E riprende Mia madre era una donna Eticamente cristiana, che ci insegue Navala Misericordia e la Generosit Appunto io immaginavo che una cosa del gen E re l'avrebbe stupita invece quella Film non l'ha mai visto l'attrice Ha poi rivelato che in passato, Quan Do era giovanissima, è stata Molton Alata, ero disperata, punto io avuto Terribile problema di droga in Thor No hai 21-22 anni, punto tanti miei amici, vi Entenni, sono morti e io c'è Lionel E miei preghiere ancora ora, punto Morivan Ho tra i 20 e i 30 anni e io invece mi sono Salvata e sono Gratadio continu A dopo la foto con Massimo Giavarro Il suo ex marito, Eleonora Giorgigo Devi un ottimo rapporto proprio per Che entrambi hanno voluto far di tutto Tu affinché il loro figlio non soffra Il se per me è molto importante, è Perché io sono figlia di separati, ah Che ho stato l'attrice, punto il futuro E c'è com'è? Ad Alberto Matano, l'agio Rgi ha confessato, mi sposerò, far Ho come Pamela Prati, alludendo Alf I danzato e alle nozze fantasma, punto con Tinua dopo la foto, Eleonora Giorgè Natà Romane il 1953, il suo esordio è Arrivato negli 70 in quella che vie Ne definita la commedia sexy all'ita Iana, punto il debutto arriva con il film Storia di una monaca di clausura, punto a Poi la possibilità di lavorare con Una vera icona del nostro cinema, of Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti